Aprimi lo sportello come fai con Tom Hanks! Sì, è raffinato. Fai quella cosina? Sì, va bene, mi sembra che sto bene. Ciao Gerry, come stai? Bobby Bofinger? Sì, ciao. Abbiamo fatto insieme quella cosa un paio d'anni fa. Quale cosa? Il film, il film famoso. Tu portami questo copione, Kit Ramsey, e avrai il tuo campione d'incassa. Facciamo il film! Facciamo il film! Questo copione è musica. Cosa? Musica, questa roba è musica, è oro colato. Prendimi, prendimi. Kit non ha bisogno di Bobby. Fuori dalla mia macchina! Come fai a fare un film con Kit Ramsey se ti ha detto di no? Credi che non ci abbia pensato e già risolto alla grande? I nostri attori gli si avvicineranno e diranno le battute. Ed è nel film anche lui. Tu preferisci l'amore alieno al mio? Amore alieno? Amore aliena a Kit? Di un po'. C'è in giro gente strana che mi ferma per la strada e mi parla in un linguaggio segreto dei bianchi. Dico non so il codice! Ma quando non puoi avere il più grande divo di Hollywood... È svanito, dileguato. Il mondo è pieno di gente come Kit. Troviamo qualcuno che gli assomigli. Devi improvvisare. Sei disposto a girare delle scene in cui mostri il posteriore? Sì, credo di sì. Ora la trappola è scattata. Sai che ti dico? Che sono vittima di un complotto. E Kit Ramsey è impegnato nella performance della sua vita. La sua paura è così vera. Vai, 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 Frandi! Gli Universo Pictures e Image Entertainment presentano un nuovo film del produttore del Professore Matto... Aio! ...e il regista di Il e Out. Oh, cap! Steve Martin. Tu cominci a correre da laggiù a quaggiù. È chiaro, ma non è che rischio di finire sotto, no? No, 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 no. Eddie Murphy. Azione! Oddio, padre! Oddio, padre! Non la voglio più fare! E Edgar Graham. Questa è una scena di erotismo. In questa scena Daisy si toglie la camicetta. Bow Finger. Azione! Sta messo bene!